Dunque, dunque, dunque... Di che cosa dobbiamo parlare? Che mi hai chiesto uscendo da scuola? Delle sorprese! Sorprese? Già ci devi fare domande per qualche ragione! Perché tu mi hai detto, ma cosa saranno queste sorprese di cui vi ho parlato ieri sera, senza dirvi niente? Sono uguali per tutte e due o diverse? Diverse, ma qualcosa anche uguale! Io ho paura! Guardate un po' chi c'è davanti casa! Due persone che sono arrivate, fa caldo eh! Buongiorno! Buongiorno! Molto! Ecco! Non riuscirete mai a raggiungere! Sei sicura? Sì! Allora... Sono impacchettate No, non sono impacchettate Ma mamma Adesso vi faccio vedere Vedi Elena Cosa ho detto quando avevo paura Mi hai paura? Sì Entro un attimo io Ti diamo gli occhi, una, due? Sì, ok Aspetta, aspetta Doviti la giacca Elena No, no, ci hai messo la giacca Elena ha questa giacca un po' pesantuccia Eh sì, eh sì Poggiarla pure da qualche parte Nicole c'ha un bel segno di penna È primavera E fuori ci sono Le margherite Le margherite Sì, Elena si sta togliendo le scarpe Ma non ci sono solo fuori le margherite Ci sono anche sul tavolo Ma che cazzo Mettetevi dall'altra parte Tirate su questa tovaglia Di margherite delicatamente Ok Esatto Ah, è la tovaglia che stai parlando Mettetevi dall'altra parte Che vi vedo meglio Io ho paura Ho paura Ho paura Uno Uno Due Tre 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 Vediamo Vediamo Indovinate cosa è di chi Ok Allora Allora E la merenda è sempre buona Una torretta di Nutella Contenti patati? Certo Vuoi provarla Elena? Sì Guarda 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 come esistava Mamma mia Che dura Col giubbottino di pelle Lo sai Nico Che il pongo Così Lo usavo anche io Da piccola Sì Non esisteva il didocera Wow Vieni qua A farti vedere Sono pronta a uscire Sei pronta a uscire? Sì Adesso è un pochino grande ancora Ma facciamo un risvoltino Stella Vero che la metteremo anche Se fosse nera Anche rosa Anche rosa Non è male Si abbinerebbe anche Alle nostre borse Wow Beh Caspita Direi che va benone Guardate questo Guardate di robe Questo pongo È difficile da tirare fuori Sì E adesso Chi vuole la merenda? Io Nutella minuscola La Nutella minuscola È molto carina A te Quali colori ti piacciono? La questa Mi aiuta ad aprire? Sì Cosa avete fatto? Che bellino Ciao Voglio fare una cosa Ora voglio fare una Quicola cosa Così ma non Metto un piccolo cappello Ora sembrano le persone Che tipo fa Che fa Tipo Ancora che non lo schiava Mi sono anche un pezzo Vero? Sì Anche un pezzettino Cosa gli metti il pom pom? Cappello d'artista Cappello d'artista È vero Manca nei baffi Se sarebbe tutto nero Sarebbe il cappello fronzo Se fosse tutto nero Se fosse Ah È un errore Quell'errore? Mettiamo Mettiamo la pellicola Sì Così non si secca Una cosa Quella distruggo Perché Cosa? Voglio fare un vulcano Poi lo distruggo Perché verrà male Voglio fare un vulcano Ok Ok Ok